Contrato! 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 Hanno scelto il momento clou degli acquisti natalizi per far sentire più forte la loro voce le lavoratrici della grande distribuzione che in mattinata hanno scioperato per chiedere il rinnovo del contratto con un corteo nella zona commerciale di Mestre. Noi siamo sempre disponibili, sorridiamo per loro, lavoriamo, però loro non ci vengono incontro su niente. Siamo stanchi, vogliamo un contratto, vogliamo essere rispettati, vogliamo essere riconosciuti per quello che siamo. In questi quattro anni di vacanza controattuale, lamentano le commesse, le nostre condizioni di lavoro sono peggiorate esponenzialmente a fronte di incentivi economici sostanzialmente inesistenti. Noi abbiamo lavoratori che lavorano tutte le domeniche, escluse le domeniche delle ferie. Abbiamo lavoratrici mamme che finiscono anche tutte le domeniche alle 6 di sera, dalle 6 in poi, anche alle 8. A gridare più forte le dipendenti delle cooperative, indignate dall'ipocrisia dei loro datori di lavoro. Ai clienti raccontano di essere diverse e più etiche, attaccano, ma con noi si comportano esattamente come gli altri, cercando di toglierci i nostri diritti. Se lo fanno le aziende private, perché la cooperazione deve adeguarsi a quello che sono le aziende private? Qua dov'è la distintività? Vogliono alzare il divisore orario abbassando la paga oraria di questi lavoratori. E quindi di fatto una perdita di salario per i lavoratori di questo settore. Inevitabili disagi al traffico lungo il percorso del corteo, che si è snodato dalla COP di via Pionara al parcheggio dello Shan, lungo il terraglio via Perone e via Dontosatto.